E visto che io martedì e mercoledì ho condotto due eventi a Mondovì, poi sono stato a Saremo Social e ora sono qui, io di Saremo quest'anno ho visto solo i titoli dei giornali, quindi magari mi gusterò sabato, la Ciretta. Oggi stiamo parlando moltissimo di canzoni ancora, forse perché si attendevano gli ultimi giorni della gara, però fino adesso di canzoni si è parlato molto meno che di Celentano, del resto. Credi che ci sarà poi, ti sembra che anche da quello che hai potuto cogliere dai colleghi sul territorio ci sia qualcosa che potrà tra qualche settimana farci parlare oppure no? Più che colleghi del territorio ho ascoltato qualche brano a un passant, butto lì due nomi che tutto sommato, uno diceva sempre i soliti Emma, mi è piaciuto moltissimo il pezzo perché finalmente parliamo di qualcosa di vero, di concreto e non banale. E poi Arisa io continuo a dire, l'ho ascoltata in diretta alla Rai quando sono andato su Rai 1, continuo a dire che come povia e come tricarico ha creato un genere, una nicchia sua particolare, ha anche aggiustato un po' la voce perché ha studiato canto bene in questi anni e secondo me potrebbe essere un artista che ha bucato lo schermo, poi avrà qualcosa da dirci. Il nome che ci rimarrà.